Si chiamava Ronnie McNewt, aveva 33 anni di età, era un ex veterano dell'esercito che il 31 agosto, dopo aver perso il lavoro e essere lasciato alla fidanzata, purtroppo si è ammassato, si è suicidato con un colpo di fucile in faccia. McNewt aveva deciso di trasmettere la prova di morte in diretta su Facebook, il video non aveva avuto modo di diffondersi, ma purtroppo è arrivata la diffusione, infatti su TikTok il video è diventato virale, in poche ore le condivisioni sono aumentate sempre di più, sono moltiplicate, grazie anche all'algoritmo del social cinese il video viene proposto a milioni di persone in tutto il mondo, si va a propagare in maniera potenziale anche tra minorenni che sono i più frequentatori di questo social cinese. Insomma, tra il brusco e il brusco è accaduto questo suicidio, il video è diventato virale e pensate che TikTok non riesce a rimuovere il video del suicidio in diretta del povero Ronnie McNewt. Vi ringrazio per l'ascolto, una vicenda questa che ci fa capire come le rigide regole dei social e anche in questo caso di questo siano davvero difficili a volte da eradicare. Iscrivetevi a questo canale di YouTube, canale chiamato Consciuto Italiano, commentate e datemi la vostra opinione. Un saluto caro italiano e il vostro narratore italiano.